Catania si prepara a festeggiamenti in onore della patrona Sant'Agata. Anche quest'anno il calendario, che si concluderà il 12 febbraio, è ricco di appuntamenti all'insegna della fede, del folclore e di manifestazioni culturali, sociali e sportive. Già il prossimo 17 gennaio, nella parrocchia di Sant'Agata al Borgo, sarà esposto il velo della martire e a breve vedremo circolare le candelore. Tra le manifestazioni culturali, sociali e sportive sficcano la mostra Agata Arte e Devozione nel Museo di Cesano, la mostra fotografica Omaggio a Sant'Agata percorso per immagini nel cortile Palazzo Platamone, le esibizioni musicali nel Palazzo degli Elefanti a cura del Teatro Massimo Bellini e dell'Istituto Musicale e la presentazione, il 23 gennaio nella Basilica Colleggiata, di un fumetto su Sant'Agata e del volume Barocco in processione. Ma è dal Tefrebaio che i festeggiamenti entreranno nel vivo. Ormai è questione di giorni e Catania aspetta con trepidazione.